Safin Finanziamenti. Valutiamo il tuo oggetto prezioso da tuo impegno ed emettiamo subito un finanziamento pari al suo valore. Vieni a trovarci. Con delibera del 19 gennaio, la Giunta Comunale di Cava dei Tirreni, su proposta del Sindaco Vincenzo Servalli, ha nominato i componenti della nuova Commissione Toponomastica, i quali si sono insediati per la prima volta martedì 24 e leggendo al loro interno il dottor Daniele Fasano alla carica di Presidente. Della Commissione fanno parte altresì gli esperti e studiosi Lucia Avigliano, Beatrice Sparano, Salvatore Milano, Franco Bruno Vitolo, Achille Mughini, Lucia Scapolatiello e Luigi Fasano. La Commissione Toponomastica, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Comunale vigente, ha il compito di esprimere il parere conforme o di proporre la denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture pubbliche o ancora di esprimersi rispetto alla collocazione di monumenti, lapidi, cippi o analoghi manufatti commemorativi in spazi ed aree pubbliche oppure private ad uso pubblico, fatta eccezione per le chiese e i cimiteri. La Commissione svolge pertanto il ruolo di un organo consultivo al quale segue normalmente il deliberato dell'aggiunta, laddove si ritiene di dare nuova intitolazione o la modifica di una già esistente, ad esempio per una strada o per una piazza. La Commissione Toponomastica Operante, a titolo gratuito per il Comune di Cava e dei Tirreni, ha eletto quindi quale presidente il dottore Daniele Fasano, il quale, idealmente, prosegue così il lavoro del padre che tanto impegno ha dedicato a questo organo comunale. Salvatore Fasano, commendatore all'ordine al merito della Repubblica e grande ufficiale al merito della Repubblica, ha tra i tanti suoi meriti quello di aver concesso l'onore di un ricordo ai tanti caduti cavesi delle due grandi guerre, ai quali sono state intitolate altrettante strade cittadine nell'ambito dei lavori della Commissione, da lui presieduta per diversi anni.